La prima domanda che le faccio è questa, se è vero che questa Omicron non è così devastante, così dannosa sotto il profilo degli effetti, perché dobbiamo comunque contrastarla? La risposta la immagino, ma vorrei che fosse lei a dirla. Omicron sicuramente sarà più contagiosa, lo stiamo vedendo, abbiamo avuto il primo caso la settimana scorsa, adesso siamo già al 15% dei nuovi positivi che sono sospette Omicron, da confermare, ma molto probabilmente lo sono. Essendo così contagiosa, anche se è meno aggressiva, il problema è che la percentuale delle persone all'interno della massa globale degli infetti che potrebbero avere dei problemi rischia di essere comunque alta e quindi a quel punto rischiamo ancora di gravare di più su una situazione che già la Delta in qualche modo aveva reso pesante. In più tutto questo sta succedendo nel momento in cui la protezione dei vaccini sta andando a diminuire per chi ha fatto doppia dose. Quindi è una congiunzione di eventi. La temperatura che si abbassa, ormai questo sono tre anni che lo vediamo, è un elemento a favore del virus. Le vacanze sono rischiosissime perché poi le vacanze natalizie sono contraddistinte dallo stare insieme in spazi rinchiusi. Quali sono i luoghi della vita sociale, immagino, che secondo lei vanno maggiormente attenzionati? Le prime Omicron sicuramente se le sono andate a prendere fuori. La Delta si può prendere veramente, veramente dappertutto. Qualcuno dice che il fatto che la Omicron si sia così diffusa in Inghilterra, per esempio, diversamente che da noi, è dipeso dal fatto che la AstraZeneca non la copriva. È un discorso reale o sono solo guerre fra aziende farmaceutiche? Allora, AstraZeneca ha dimostrato una minore capacità nella produzione anticorpale, in studi che abbiamo fatto anche pubblicato noi, e una maggiore capacità nella produzione delle cellule della memoria. Ora, potrebbe anche darsi che soprattutto le cellule della memoria magari non siano così attive in un virus così cambiato. È un'ipotesi, ma non dimentichiamo però un'altra cosa, che non è quella la sola variabile. L'altra variabile è, primo, che in Inghilterra il freddo è arrivato prima, secondo, che le restrizioni in Inghilterra sono molto più basse che da noi. Si corre dietro alle varianti, ogni volta si pensa di aver assunto uno scudo sufficientemente valido, e poi quello scudo che credevamo proteggesse all'80-90% arriva a percentuali veramente ristrette. Come facciamo a venirne fuori? Si potevano, per esempio, chiudere le scuole prima? C'era qualcosa che potevamo fare e non è stato fatto? Sulle scuole io le avrei chiuso una settimana prima di Natale, avrei fatto fare un Natale tranquillo a tutti, evitando questo picco di contagio, ovviamente, a livello nazionale. Però, diciamo che queste scelte sono i politici. Quello che si può fare, secondo me, è rendersi conto, primo, che comunque se si è vaccinati, la protezione contro la malattia Covid resta molto alta, un po' meno alta contro l'infezione, ma contro la malattia sì. Abituiamoci, ci accompagnerà ancora per un po' di tempo, diventerà una cosa sempre più, normale, sempre più controllata. Non crediamo a quelli che a un certo punto se ne escono e dicono è tutta finita. Non dobbiamo credergli più.